Ragazzi questa è un'emergenza, il big ladro vuole distruggere la big vanilla, non so per quale motivo ma è appena uscito un suo video chiamato la fine di tutto big vanilla minecraft C'ha 5.000 visualizzazioni ancora, il che significa che molti di voi non l'hanno ancora visto, io lascio immediatamente non mi piace, non sono iscritto al suo canale e gli rispondo anche dicendo non ci provare, non ci deve provare minimamente Allora, non ho ancora visto il video quindi non so di che cosa si tratta ma c'è scritto martedì 1 giugno alle 18 qualcosa di, qualcosa di tutto unito, vabbè, qualcosa di molto importante sparirà Allora, cosa sono le cose più importanti della big vanilla? La corona, il castello, le torri mie di marci No eh, guardiamo il video, tolgo il volume Martedì 1 giugno alle 18 qualcosa di molto importante sparirà La statua di loco? La vuole distruggere, perché? Sta inquadrando la statua di loco? Ragazzi c'è un, come si chiama? Il cristallo dell'end Dentro la corona Dove sta andando? Che cavolo è sto coso? Ha ricreato il cristallo dell'end in versione gigante? Non ci credo Non è vero E quindi cosa significa? Perché è così gigante? Non può esplodere sto coso Se esplode sto coso distrugge il mondo, distrugge Preparatevi Ragazzi No, voglio leggere i vostri commenti Ogni volta che leggo i commenti mi scaso leggendo Io, devo entrare a scuola, sempre io, vabbè, prima il big ladro Ci dirai finalmente chi sei? Mostro? Se proprio devo fare un commento? Povero Marci, costruisce sempre ore e ore e poi gli distruggono tutto No, 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 qua mi sa che stiamo parlando della distruzione della Big Vanilla Non delle cose di Marci Di tutto Sono le 8 Ha caricato il video alle 8 del mattino Ma come sta? Io ieri È da tanto che il big ladro non possa Cheat Ecco Non, non Non ditele queste cose Ci potresti dare un indizio? Ma no, dai, non deve finire così questa serie bellissima Ma non finirà Non può finire la serie Figuratevi Allora Io adesso entro nella Big Vanilla Non vi faccio vedere l'IP per entrare, ovviamente E voglio vedere se effettivamente quella costruzione esiste Secondo me non esiste Ha preso tipo il mondo Perché lui c'ha i backup e tutto E quindi l'ha messo in quel modo Infa Esiste Oh cavolo Aspetta Andiamo a dormire Andiamo subito a dormire Oh mio dio ragazzi Esiste veramente quel cubo No, 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 no Porca miseria Porca, porca, porca miseria Fammi vedere Fermo Questa è una questione di emergenza Di vita o di morte Non posso farmi interrompere da uno scheletro, ovviamente Allora Là c'è la torre che sta costruendo Chi la sta costruendo? Marci, presumo Perché Marci è il costruttore delle torri Qua c'è la corona del re E lassù C'è il cristallo del land Gigante Ma com'è fatto a costruirlo senza che nessuno se ne accorgesse? Ce le ho le ali io Ok, sono un po' rotte Vado a prendere i razzetti E andiamo a dare un'occhiata lassù Cioè ragazzi Ho la costruita di notte Molto probabilmente Molto probabilmente la costruita di notte Porca miseria No, no Ma la fine della Big Vanilla Un cavolo La fine della Big Vanilla No, non ce li ho Ok So esattamente cosa devo fare Ma guarda un po' Se ci dobbiamo fare minacciare dal ladro La fine della Big Vanilla Allora Sfruttiamo la mia farm di Gunpowder Per ritornare a casa senza razzetti In questo modo dovrei riuscire a planare Fino a casa All'incirca Gli standardi di Bella Faccia Sono ovunque Non li sopporto più Ha detto se non sbaglio Che è l'1 giugno alle 18 Che succederà questa cosa Però non ha detto cosa Ha detto qualcosa di grande Qualcosa di Qualcosa di grande Qualcosa di importante Ha detto Qualcosa di importante Ha messo il cristallo nella corona del re Secondo me è un attentato al loco E io in quanto guardia del re Devo provare a proteggerlo Io l'1 giugno Non mi scollo Dalle spalle di loco Gli sto appiccicato Come la colla vinilica Allora Facciamo una bella planata verso casa E se ci pensate ragazzi Ha senso Allora O vuole distruggere la costruzione O vuole distruggere l'intero mondo Quindi magari all'interno Di quel cristallo del land C'è tipo Ci sono tipo 100 cristalli del land Vuole distruggere tutto Non lo so È per questo che dobbiamo dare un'occhiata Dobbiamo salire là sopra E dobbiamo investigare Dobbiamo capire che cos'è Allora Facciamo così No Mi servono le canne da zucchero Canne da zucchero al volo Dai che non c'è tempo da perdere Porca miseria Poi non c'è nessuno online Cioè Non sono allarmati di questa cosa Io ragazzi sinceramente sono allarmato Facciamo così Carta a non finire E ora facciamo i razzetti Come si facevano quelli da Ah così si fanno quelli da 3 Non lo sapevo Perfetto Abbiamo i razzetti da 3 È un'emergenza Cosa fai? Cosa stai facendo? È un'emergenza Non c'è tempo da perdere Via! Spicchiamo il volo Intanto vediamo allora Se c'è il cristallo No Il cristallo non c'è Però c'è Perché c'è la testa di loco? Non capisco Mettiamo il totem Perché stavo morendo Allora il cristallo non c'è Quindi Oh Non mi fa andare C'è una barriera Ragazzi c'è una barriera Ok Non mi fa entrare all'interno del suo raggio Porca miseria Stavo morendo C'è una barriera di blocchi invisibili Io non li posso scavare i blocchi invisibili Neanche col piccone più forte del mondo Li puoi scavare E perché Cioè quindi non si può rompere No ragazzi Cioè ragazzi Questa cosa è grave Lui ha piazzato qua questo coso Questo cubo gigante E non si può rompere in nessun modo Ci sono i blocchi invisibili ovunque No secondo me C'è un punto in cui si può entrare Avrà sbagliato Non può essere perfetto no? Io ci provo Ci deve essere un'entrata da qualche parte No Porca miseria stavo cadendo Ecco a voi Il cubo gigante Del big ladro Sembra tipo una specie di lucky block Ma credo sia il cristallo Se non sbaglio Land crystal ha queste sembianze Eh ora non me lo fa vedere Perché non lo posso craftare Però land crystal è così E il problema del land crystal Sapete qual è? Che esplode E distrugge tutto A meno che Lo riempi d'acqua Se noi Prima dell'1 giugno Riempissimo tutto Questo blocco d'acqua Allora in quel caso La sua esplosione Non farebbe nessun danno Non distruggerebbe Il nostro fantastico mondo Devo organizzarmi Con i miei amici ragazzi Ne dobbiamo parlare insieme Qua si può da sotto? No? Oh mi stavo incastrando Niente Li ha messi ovunque I blocchi invisibili Non ha scordato Neanche un punto Ok Scendiamo Non in picchiata Perché già sto morendo Ho bisogno anche di cibo Per favore Scendi piano 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 Ok L'1 giugno ragazzi Mi sa proprio che l'1 giugno Andrò in live Mi sa proprio di sì Perché ho l'impressione Che succederà qualcosa di gigante Qualcosa di spaventoso E quindi Lo vedremo insieme in live Mi raccomando Non mancate Ciao Ciao